Ok, Richard Benson insieme ad Essere Esposito, volevo vedere un attimino di formulare due domande ad Essere Esposito, per vedere, lei è una delle più grandi intenditrici di metal che si divide sotto varie forme, però io vorrei domandare a lei, dato che le donne si interessano poco a questi generi in metal, o sono delle finte metallare, si vestono dark da metallare, rossetti, però alla fine non capiscono un cazzo di musica, non sanno manco chi è, per dire Eric Clapton, per dire che non c'entra niente col metal chiaramente, però ho un nome a caso preso, capisci? Allora vorrei domandargli le formazioni di due gruppi tra i più tecnici al mondo, famosissimi tutte e due, che hanno cambiato il decorso della musica, diciamo metal progressive, se vogliamo intendere questa parola. Allora, Essere Esposito dovrebbe rispondermi e dirmi tutta la formazione dei Dream Theater. Prima di tutto buonasera a tutti, ciao ragazzi a casa, ragazzi, non ragazzi, persone più o meno adulte. La formazione dei Dream Theater proverò, vediamo se non erro, James Labrie alla voce, John Young al basso, John Petrucci alla chitarra, Jordan Rudes alle tastiere e prima Mike pornoi e adesso Mike Mangini alla batteria. Perfetto. Beh, con un maestro come te Richard, come si fa a non imparare la cultura e la vita vicino a te? Adesso ti faccio un'altra domanda. Sono il secondo gruppo considerato tra i più tecnici al mondo, molto famosi anche loro. Non vuol dire essere ultra tecnici che non sei famoso. Tutti e due questi gruppi sono pieni di seguaci e hanno una serata attraverso il mondo dietro l'altro, tournei internazionali, eccetera. Ok, la formazione dei Symphony X. La formazione dei Symphony X è composta Russell Allen alla voce, Mike Romeo alla chitarra, Tony Lepond al basso, Mike Pinella alle tastiere e Jason Rullo alla batteria. Perfetto. Ho superato la prova, maestro? Ancora no. Cazzo, diventa sempre più difficile. Vedi, molti non sanno un cazzo. E ciò mi deturba. Cioè mi fa veramente incassare come una bestia. Quello ha fatto il nome dei Beatles, per cui ritorniamo indietro agli anni Sessanta. Voglio la formazione originaria dell'Equipo 84. Equipo 84, dunque, Maurizio Vandelli, Victor Soliani, Franco Ceccarelli, Alfio Cantarella. Perfetto. Poi sarebbe cambiata la formazione, vabbè, poi... Formazione originale, l'ho chiesto. Sì, è giusto? La formazione originale dei Rocks, quelli che hanno fatto che colpa abbiamo noi, e la pioggia che va, e lascia l'ultimo ballo per me, c'è una strana espressione nei tuoi occhi, piangi con me, e tanti altri grandi succedenti. Beh, bisogna saper perdere, mi sono ricordato. Non sempre si può vincere. Sì. Shell Shapiro, Bobby Posner... No, devi dire... Eh no, io adesso... che cosa suonano non me lo ricordo, so la formazione. No, cosa suona Shell Shapiro, la chitarra, no? La chitarra, e vabbè, adesso mi stai facendo troppo difficile, posso ridirti i nomi? Ma adesso non ricordo esattamente che cosa suonano. Va bene, allora la formazione dei Rocks. Shell Shapiro, Bobby Posner, Michael Shepston e Johnny Charlton. Perfetto. Però ti posso dire anche i Rolling Stones? Vuoi sapere i Rolling Stones? I Rolling Stones, ha chiesto quell'altro. La formazione originaria dei Rolling Stones, allora, eh? La formazione originaria dei Rolling Stones, Brian Jones, capo dei Rolling Stones. No, Mick Jagger, Brian Jones. Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts. Perfetto. Posso essere la signora Benson adesso? Ho superato la prova? O pensi che ci sia qualche donna che sappia rispondere a queste domande? Non penso. Pensi che ci sia qualche donna che possa rispondere a queste domande? Noi ci sposeremo di fronte al sindaco Alemanno, che già questa notizia circola su internet. Quando il sindaco Alemanno mi dirà, vuoi sposare la signorina, essere esposito e scambiarvi gli anelli? Quindi dirò, sindaco, aspetti un attimo, dimmi la formazione dei Dream Theater, dimmi la formazione dei… Basta che non mi chiedi la formazione dei Yes, Richard, che è troppo difficile. No, no, quella è troppo intricata. Troppo difficile, eh? Quella è troppo intricata. Troppo difficile, Yes. Va bene, hai capito? Quando avrai risposto? Non mi chiedere la formazione dei Yes, ma io ti dirò Yes. Ah, tu dirai sì al matrimonio. Va bene, grazie. Grazie, grazie, Richard. Grazie di essere esposito.